L'Unione fa la forza e si rinnova per altri cinque anni quella del servizio associato di polizia locale che riunisce i comuni di Ponte di Piave e Salgareda, una firma che sancisce un esercizio associato rivolto al controllo del territorio e del controllo su strada, specie lungo la postumia, arteria importante che viene percorsa da più di 24.000 veicoli al giorno. Siamo sui 15-20 incidenti stradali all'anno per quanto riguarda Ponte di Piave e 8-10-12 anche Salgareda. 60 chilometri quadrati di territorio per 15.000 abitanti. A tanto si estende il controllo capillare che guarda l'implementazione del prossimo quinquennio. Implementare quelle che sono state le partecipazioni ai bandi e quindi continuare questa collaborazione col comune di Salgareda, implementare quelle che sono anche le pattuglie che vengono fatte anche di notte, ma sicuramente tenere monitorata questa nostra strada postumia che chiaramente ci tiene molto a dividere il territorio portempiavense in due parti ma che chiaramente è un fiore all'occhiello e un controllo sul territorio che le nostre forze dell'ordine danno costantemente e quotidianamente. Gestione associata che riguarda tutte le attività di polizia locale, urbana, rurale, di polizia amministrativa, coadiuvate dall'apparecchiatura relativa anche alla videosorveglianza. Abbiamo ovviamente delle telecamere per il controllo del territorio, abbiamo anche delle convenzioni per quanto riguarda la collaborazione con la cittadinanza che si chiama controllo del vicinato che ci ha fatto molto piacere che abbiamo avuto tantissime adesioni. I controlli a partire da fine ottobre saranno intensificati con un occhio di riguardo alla prevenzione, specie per quanto riguarda i furti in casa con il ritorno dell'ora solare.